Ciao a tutti, ci troviamo a Milano in occasione della presentazione di FIFA 16 e abbiamo avuto modo di provare per la prima volta la nuova versione del simulatore di calcio di EA Sports. Siamo con Sebastian Enrique, producer del gioco, a cui chiediamo di riassumere brevemente le novità di questa nuova edizione del gioco. In termini di gameplay, in FIFA 16 abbiamo migliorato soprattutto tre aree e ci siamo preoccupati di avere un buon bilanciamento. Avere una difesa più sicura è stato il nostro primo pensiero e poi ci siamo assicurati di fornire ai giocatori gli strumenti per controllare il centrocampo, ovvero abbiamo voluto migliorare le battaglie per il possesso di palla al centrocampo. E infine, per quando si attacca, diamo adesso ai giocatori degli strumenti per ricreare quelle che abbiamo definito i momenti magici del gioco del calcio, per ricompensare le giocate migliori. Quindi, nella sostanza, si tratta di innovazioni che riguardano l'intero campo di gioco, al fine di ottenere un gioco sempre bilanciato che dia soddisfazioni quando si eseguono le giocate migliori. Al di là di questo ci sarà anche il nuovo FIFA Trainer, che è uno strumento che insegna a giocare o che aiuta a migliorarsi. E come abbiamo già detto in passato, avremo anche il calcio femminile. Seconda domanda è a proposito della frustrazione che alcuni giocatori lamentano nelle partite multiplayer online. In alcuni casi sembra che il gioco non segua quello che è l'input del giocatore. Vediamo se Sebastiana la pensa così. Quando si gioca online, una delle cose da considerare è il lag in dipendenza della qualità della connessione. Il nostro team che si occupa della parte online lavora continuamente per rifinire gli algoritmi alla base di questa parte del gioco, in modo da attenuare il più possibili gli effetti del lag. È un lavoro continuo svolto ad assicurare un'esperienza sempre migliore. Abbiamo la sensazione che anche nella modalità full manual in realtà il gioco mantenga un certo tipo di comportamento a seconda della posizione nel campo in cui ci si trova, ovvero che non sia possibile replicare perfettamente una giocata in funzione della posizione del campo. In certi punti del campo abbiamo una giocata con un certo tipo di input, in altri punti un'altra giocata con lo stesso tipo di input precedente. Chiediamo a Sebastiana cosa ne pensa anche in questo caso. Il gioco è pensato per garantire che si abbiano le stesse conseguenze in caso di giocate ripetute in maniera esatta. È sempre possibile replicare una giocata, a prescindere dalla posizione del campo in cui ci si trova. Detto questo, anche se si imposta il settaggio full manual, in realtà non si può avere qualsiasi cosa manualmente. Questo perché comporterebbe un numero di pulsanti spropositato, ma fondamentalmente la risposta alla tua domanda è sì. È sempre possibile replicare le giocate, anche se ovviamente, considerato il numero di variabili in gioco, è molto difficile ripetere fedelmente una giocata. Si può verificare, quanto sto dicendo, negli skill game, dove si può vedere come sia possibile mandare una palla nello stesso punto del campo più e più volte. Questo riguarda anche i movimenti. Se si corre alla stessa velocità e si interagisce con le stesse tempistiche, si può vedere come il gioco sia in grado di replicare esattamente le giocate. Naturalmente, per il giocatore non è facile ripetere alla perfezione le giocate precedenti. Non c'è mai casualità nel gioco e l'input del giocatore è sempre riprodotto in maniera fedele. L'ultima domanda è a proposito del motion capture. Che tipo di lavoro ha dovuto fare EA Sports anche in associazione all'introduzione del calcio femminile? Il motion capture è cruciale in un gioco come FIFA. In questo caso particolare, ancora di più, perché i movimenti o il tipo di corsa degli uomini sono molto differenti rispetto a quelli delle donne. Ma ci sono differenze importanti anche dal punto di vista biomeccanico e di comportamento sul campo di gioco. Abbiamo realizzato delle sessioni di motion capture con alcune calciatrici americane e abbiamo usato questi dati per riprodurre le muovenze di tutte le giocatrici presenti in FIFA 16. I giocatori noteranno subito la differenza quando giocano nel calcio femminile. E non è solo una questione di animazioni, perché abbiamo impartito grossi cambiamenti al gameplay, agli attributi e agli altri elementi di gioco. Il tutto per garantire l'autenticità del calcio femminile. E il motion capture è una delle componenti chiave per ottenere tutto questo. Il motion capture è uno dei componenti principali. Ok, grazie molto. Grazie.